Cosa sta succedendo in Ucraina? Sarà tutto teatro come dici te, ma a me sembra tutto vero. Beh, anche l'11 settembre è tutto teatro, però le morti sono state vere. Ricordiamoci che in ogni evento come questi il loro scopo è sempre uno. Più stato, cioè più potere a loro e meno al popolo che controllano. Dopo l'11 settembre loro hanno creato questo terrore del terrorista e ci hanno messo i militari per strada, telecamere ovunque, controlli ovunque, in aeroporti, eccetera. Quindi per arrivare a più controllo a loro e meno a te, loro creano sempre un evento che giustifichi la loro presa di più controllo. Quindi una volta capito la loro formula possiamo anche decifrare l'Ucraina. Loro quindi cercano di dirci guardate cosa succede se siamo degli stati separati, ognuno per conto suo, succede che facciamo guerra l'un l'altro. Invece se siamo tutti uniti, un unico governo mondiale, tutto questo non ci sarebbe. In realtà dietro le quinte loro sono già un unico governo, cioè gli stati, basta vedere come si sono comportati con il cogliona V, tutti sono stati d'accordo sulla strada da seguire. È solo che il pubblico non è pronto per accettare la cosa, cioè che gli stati non esistono più e quindi serve ancora un po' di teatro. Questo documentario qua, insieme al film 1984, spiega benissimo il loro meccanismo. Grazie a questa paura che mettono allo schiavo che un possibile nemico esterno da un momento all'altro possa invadere, o per dire la paura della bomba atomica, loro hanno avuto la scusa perfetta per creare questi mostri, questi eserciti enormi, grazie alle tasse che prendono da noi, che noi abbiamo dato ben volentieri in cambio di sicurezza, non rendendoci conto che il mostro ormai era diventato enorme e noi senza potere. Loro hanno il potere ora, con tutto questo potenza che abbiamo dato noi piano piano, con le tasse, per crescere questo esercito, di creare un teatro mostruoso, una guerra anche mondiale volendo, così hanno la scusa per trattarci in modo da pagionieri di guerra alla fine, di spostarci, possiamo diventare profughi, spostarci da un campo di concentramento all'altro volendo, ovunque questa cosa, non solo in Ucraina magari. Se arriveranno a farlo questa cosa adesso o meno, non si sa, magari la cosa potrebbe concludersi con solo un po' di morti lì, in quella zona lì, localmente in Ucraina. Magari vogliono solamente fare intervenire le truppe internazionali della Nato, per dire. Se vedono che l'operazione Cogliona V, insomma che è in atto dal 2020, non ha prodotto magari i risultati che volevano, e cioè trattarci come bestie, legge marziale, eccetera, eccetera, allora useranno quest'altro piano qua dell'Ucraina, di una possibile estensione di questo conflitto a livello mondiale. Loro hanno il potere purtroppo di fare tutto questo, un bel teatro così di guerra, a queste pecore che completamente inermi, non armate, niente, non abbiamo niente per difenderci, subiremo soltanto questo loro piano. Finché la pecora vorrà sognare e scappare dalla realtà, questo sarà quello che ci becchiamo, a me mi dispiace dare queste notizie così brutte e negative, ma che cosa ci possiamo fare? Noi siamo bestie, non vogliamo vedere la realtà, e subiamo le conseguenze. Ciao.